Leonardo Silva Revisoree Sei di coccio. Hai la schiena di vetro. Vai coi piedi di piombo. La materia è radicata dentro di noi molto più di quello che pensiamo. Perché oltre ai sensi, quelli che percepiamo tutti i giorni, il primo gesto del bambino, toccare lo spazio, gli oggetti, c'è una materia simbolica che portiamo dentro di noi. Quella che ci fa dire una personalità o persino un modo di fare. Perché la materia ha un significato molto profondo anche nell'etimodogia della parola. Mater è la madre. In spagnolo la madera. Il tronco che genera vita. A questo proposito vi invito a guardare questo video. Questa è una cellula di un embrione che si sta moltiplicando, cresce. E mano a mano queste cellule sanno che diventeranno un organo. In particolare quello del cuore. E a un certo punto comincia a pulsare. È sempre commovente, trovo. E adesso un secondo video. Questo è un materiale che viene chiamato self-healing. Un materiale che si autoripara. è un polimero molto particolare che viene utilizzato normalmente per le tute degli astronauti. In modo tale che gli possa salvare la vita. Nel momento in cui viene forato prima si autoripara e poi si autoguarisce. Allora la prima domanda di questa sera. Qual è quello vivo di questi due materiali? Qual è quello inerte? Forse la prima cosa che possiamo cominciare a capire è che più andiamo nel micro, più guardiamo dentro la materia più invece che avere risposte forse ci creano delle domande. Siamo andati a scoprire il bosone di Higgs. Cerchiamo di capire le teorie del Big Bang e in realtà il mistero della creazione della materia sembra sempre più lontano in realtà che più vicino. Il famoso fisico Richard Feynman dice Everything tingles, tutto freme. Che proprio indica questa idea senza voler tornare a una teoria atomista forse veramente siamo tutti parti di uno stesso ambiente. Non c'è una natura viva, lontana da noi, idealizzata, perfetta, alla quale dovremmo tornare e noi siamo inadeguati rispetto a questa natura. Siamo tutti parti di uno stesso ambiente. Siamo una metamorfosi continua. Un po' come l'amato pescatore Glauco. E allora questa è una prima riflessione che vi chiederei di portare a casa come materialisti, come nuovi materialisti. Di non fermarsi alle apparenze, di andare in profondità attraverso anche gli strumenti che la scienza ci dà. E rispetto alla profondità vi porto subito a farvi una seconda domanda. Quando da qui uscirete stasera con il cellulare commenterete la serata e con un gesto molto semplice manderete un messaggio. Allora questo messaggio non sarà per niente leggero, anzi sarà molto materico. Prima di tutto arriverà in un data center, un luogo fisico molto grande, tendenzialmente probabilmente in un posto freddo in Islanda per esempio, perché i data center hanno bisogno di molta energia e sviluppano molto calore. E quindi avrete un impatto ambientale in realtà pensando invece di essere molto leggeri con il vostro gesto. in secondo luogo, se il messaggio non arriva velocemente al vostro utente, se non vedete quella piccola V che arriva velocemente, vi darà fastidio. Questo si chiama il tempo di latenza. lo studiano gli ingegneri sulla microelettronica e da cosa dipende? Dipende dal materiale col quale vengono fatti tutti i vostri strumenti. Più i materiali sono performanti, più gli atomi vanno veloci e più il tempo di latenza si riduce. Ma che materiali sono? E qui un altro punto di domanda. Sono materiali che vengono estratti in siti lontani da noi, spesso non sono più in Europa anche per questioni ambientali e sono dei metalli rari che vengono lavorati da altri tipi di metalli. Quindi anche in questo caso ci troviamo davanti a un gesto che sembra molto leggero ma in realtà è molto materico. Allora ecco, un'altra sollecitazione di questa sera. Il digitale è il cloud, è una nuvola molto poco soffice. Anzi, ha proprio la consistenza della materia con quale sono realizzati i nostri oggetti, dei luoghi dove li estraiamo, ma anche in fondo di tutti gli spazi che abbiamo intorno a noi. Il digitale comunque non va demonizzato. Non voglio qui stasera dirvi che c'è questo confine, anzi, era forse la prima cosa che ho detto. Piuttosto, penso che sia importante capire come utilizzarlo, quali sono gli strumenti che abbiamo oggi per utilizzarlo al meglio. Allora vi propongo di passare attraverso i materiali, quelli che lavoro nel mio laboratorio, quelli con cui lavoriamo in architettura. In particolare il legno, vi faccio questo esempio. Quando pensiamo ad alcuni materiali sostenibili, pensiamo spesso al legno, ci immaginiamo giustamente un materiale della tradizione, molto bello, che ha una memoria. Ma in realtà oggi il materiale legno, essendo molto richiesto, sta crescendo nella richiesta e quindi aumenta anche il prezzo. Il che, alcune volte, crea dei circoli molto poco virtuosi. Vengono utilizzate foreste non certificate, non vengono ripiantati i materiali che sono stati estratti o utilizzati per la costruzione. e quindi, in questo caso, la cosa più importante forse è proprio essere informati, capire da dove vengono i materiali, quali sono anche le filiere che sono state utilizzate. E questo come possiamo farlo? Io penso, prima di tutto, attraverso un nostro diritto, cioè quello di sapere, di conoscere. Come avrete visto, un po' il filo conduttore su cui voglio portare questa idea di consapevolezza. Sul legno, per esempio, potrebbe essere quello della tracciabilità. La tracciabilità permette di partire da un elemento e tracciare tutto il percorso che ha fatto fino ad arrivare all'oggetto, al prodotto, allo spazio nel quale siamo. Ma, più che la tracciabilità, vi invito a riflettere sulla rintracciabilità, quindi sulla possibilità di tornare indietro sulla filiera, avanti e indietro. Quindi, in qualche maniera, di avere una conoscenza trasparente di come lavorano i diversi processi, di come sono stati realizzati. Quando qualcosa è trasparente, quando si è informati, quello che si crea è la fiducia, perché, in qualche maniera, si capisce che l'informazione è chiara, è strutturata, ci dà una certa responsabilità. Quindi, questa idea di conoscere la materia, dal micro al macro, dall'estrazione delle risorse, alla tracciabilità, che poi è una tracciabilità non soltanto materica, ma anche umana, sociale. Dove è stato prodotto questo materiale? Ricorderete la tragedia di Caraci, degli impiegati rimasti chiusi all'interno dei capannoni? È una tracciabilità che ci dà una responsabilità molto, molto forte. E che, in fondo, come dire, non deve essere neanche questa idea di rinuncia, di dover, in qualche maniera, pensare semplicemente a dei materiali più poveri o più naturali, quanto piuttosto conoscerli, andare a fondo, sapere come sono composti. Forse direi quasi cambiare lo sguardo sulla materia. Peter Hunk, uno dei miei poeti preferiti, dice far seguire a un primo sguardo una serie di primi sguardi. E forse è questo, no? È la cura, l'amore per la materia. Come la guardiamo? E qui, appunto, ho detto di fatto chi guarda il mondo in modo diverso lo sta già trasformando. È già un primo passo. Allora, ecco il sottotitolo del TED di oggi, La politica. Io penso che l'interesse per la materia potrà avere la forza di parlare alle vostre idee, potrà risvegliare la vostra progettualità. In qualche maniera inciderà sulla vostra scala di valori, perché avrete una nuova consapevolezza, autentica, responsabile, umana. Si può fare politica con la materia, nel senso più nobile del termine, perché quando la investiamo della nostra intenzionalità diventa viva, non è più artificiale, non è più qualcosa di inerte. Quindi pensavo di congedarvi con tre imperativi, anche se non sono molto prepotente di solito. Il primo è ripensate alla vostra idea di materia. Sceglietene una che vi piace, ma consapevole, responsabile, sostenibile, diciamola questa parola. La seconda, sentitevi parte di un unico ambiente, non c'è un confine tra naturale, artificiale, vivo, inerte, digitale, analogico. E il terzo, siate attivisti materici, perché non è vero che il gesto minimo non è significativo, che servono solo gesti eclatanti, è l'abitudine, è la somma dei gesti minimi che fa il gesto collettivo significante. Perché adesso vi lascio col colpo di scena. Perché voi di che pasta siete fatti? Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.